Volevamo un pochino riportare qui alcune di quelle che sono state le nostre esperienze quando eravamo bambini noi, infatti avevamo pensato come i giochi dei bambini di una volta fatti dai bambini di oggi. Da Rubabandiera agli indimenticabili bollini, ossia le biglie in vetro, passando poi per la campana e la corsa dei sacchi. Il sito archeologico di Castelsecco, quasi per un giorno, è diventato un parco giochi, ma di quelli di una volta, quelli dei nonni. È stata una scoperta di questo luogo, che però non vuole essere soltanto un luogo di incontro fisico, ma si propone appunto anche come associazione, come anche in questo caso, di fare rete e sperando di aggregare sempre più bambini. Ad organizzare l'iniziativa Giochi dei Nonni assieme all'associazione Castelsecco, gli scout ed il calci. Tutte cose che ci riportano ai tempi che furono, ma che sono, anzi, devono ritornare attuali, perché poi dobbiamo stare attenti sempre come si vive, dove si vive, dobbiamo stare attenti all'ambiente. E perciò fa parte anche questo di quelli che sono gli obiettivi del calcite, oltre alla raccolta fondi, anche se oggi non è questo il primo obiettivo, ma quello di stare attenti all'ambiente dove viviamo.